delle carte specialissime. Parliamo infatti anche quest'oggi di tarocchi e in modo particolare di tarocchi egiziani, insomma di cartomanzia. L'abbiamo già fatto altre volte, anche altre volte abbiamo incontrato il personaggio che adesso vado a presentarvi, che ha avuto moltissimo successo e moltissime lettere sono pervenute alla nostra redazione e noi l'abbiamo voluto invitare un'altra volta. Silvio Rossetti. Buonasera a tutti, anzi buongiorno a tutti e ciao a te Antonella. Grazie Silvio. Senti, tra le lettere che noi abbiamo ricevuto, noi ne abbiamo scelte naturalmente alcune perché sono talmente tante, la prima è di Patrizia, nata sotto il segno dell'acquario classe 59 ed è nata a Rimini. Sì, e cosa vuole sapere? E voleva sapere qualcosa sui suoi sentimenti. Sui suoi sentimenti, allora mi fai tu da tramite e come sempre. Sempre, allora è vero questa cosa che bisogna scavallare le gambe, intanto lo diciamo. Sì, è meglio. Diciamo che è meglio. Ha bisogno fare molta ginnastica. Diciamo che è meglio. Allora, meglio, perché è meglio così? È meglio per scaramanzia? Cioè non si incrocia mai una cosa sul destino, eh? Ah, non si incrocia mai una cosa. Adesso però posso riaccavallare. Adesso lo puoi riaccavallare.